Benvenuti al centro di notizie e gossip. Prima di entrare nelle novità del giorno, un mi piace e la vostra iscrizione al canale sono per noi segni immensi di apprezzamento. Grazie di cuore. Oggi parliamo di Barbara Palombelli, la famosa conduttrice del programma giuridico e forum. Ha annunciato recentemente di essere temporaneamente senza voce e, per questo motivo, ha deciso di affidare la conduzione a una collega. Nonostante ciò, è comunque comparsa in studio durante la puntata di ieri mattina, mostrando la sua dedizione al programma, che continua a conquistare il pubblico di tutte le età. Nel corso degli anni, forum è stato condotto da nomi importanti come Rita dalla Chiesa e Paola Perego, ma da un poi di tempo Barbara Palombelli è diventata la figura centrale del programma. Ieri, però, a causa della sua temporanea afonia, ha ceduto il ruolo di conduttrice a Giulia Giorgi, una collega giovane e talentuosa, che ha gestito la puntata con grande abilità, portandola a termine con successo. È abbastanza comune che chi lavora tanto con la voce incontri problemi come questo, ma di solito si risolvono in pochi giorni con il giusto riposo e le cure adeguate. Ci aspettiamo che Barbara Palombelli torni al suo posto ai forum e su Mediaset già la prossima settimana.